ciao ragazzi oggi vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da parte di Katie praticamente sono dei profumi originali però sono dei tester lei ha questo shop online e per soltanto questa settimana abbiamo i profumi originali sia femminili che comunque maschili solamente a 35 euro che solitamente lei vende a 40 euro e non solo se questa settimana prendete quattro profumi l'ultimo viene soltanto 25 euro qui in particolare io ho scelto il profumo armani si quello bianco perché come sapete c'è quello rosso gli altri colori quindi altre fraganze poi abbiamo questi qua di lancome la vie e belle anche questo un profumo eccezionale io l'ho testato sia questo lancome che quello armani effettivamente durano tantissimo sono appunto originali vi lascio la pagina qui sotto così potete contattare Katie ringrazio per questi profumi veramente eccezionali e vi invito a visitare la sua pagina ringrazio per questa pagina